Ehi, con ridere, fai delle cose, però sempre ferma lì, ok, strano che nessuno non ti abbia mai parlato di Fernando, no, di da capo, Fernando e Vittorio? Sì, vai, azione. Strano che nessuno ti abbia mai parlato di Fernando e Vittorio, Dave, cioè, vuole toccare? No, beh, azione. Strano però che nessuno ti abbia parlato di Fernando e Vittorio, Dave, neppure tua madre? Guarda, non lo so, nessuno me ne ha mai parlato, non so cosa dirti. Ah, ragazzi, mi sto impapinando, scusate. Forse siamo solo frastornati, siamo arrivati in questo paesino di montagna, al buio, tutto così velocemente è successo. Non lo so, c'è qualcosa di inquietante la storia di Fernando. Non mi sento a mio agio. Scusa. Rosa, a cosa stai pensando? Un po' più di estrema. Scusa. Rampiato. Scusa. Scusa. Grazie a tutti